Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Non era realistico, era un puzzle game divertente dove si faceva uso dell'ingegno e dello stealth e si doveva ripulire senza farsi mai beccare. Che cosa succede? Ci hanno dato questa missione su quest'isola, non sappiamo il motivo, continuano con le loro battute, la squadra arriva su quest'isola ma stiamo per fare una brutta scoperta. Quest'isola è popolata da dinosauri quindi è un DLC assolutamente fuori di testa e ci metterà di fronte a nuove sfide. Ora abbiamo la possibilità di ripulire una scena del crimine, vedete che abbiamo la solita nostra lavapavimenti dove possiamo andare a aspirare il sangue, prendere i vari cadaveri e farli sparire, non so ancora onestamente come. Tuttavia, la scoperta che facciamo ora è questa, praticamente c'è un dinosauro e nel momento in cui lo scopriamo ce n'è anche un altro dall'altra parte, lo vedete là. Quindi dobbiamo cercare di attirarli entrambi probabilmente all'interno di quella gabbia. Quindi io li tiro tutti e due cercando di non farmi beccare, adesso io mi metto giù, entrano tutti e due e me li incateno tutti e due. Perfetto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Ora, una volta chiusi lì, questo è il primo puzzle che abbiamo superato, continuiamo a ripulire la nostra isola. Ci sono delle parti che non possiamo ancora recuperare, ci sono questi corpi ma ricordandomi il gioco base c'era il distruggi cadaveri, quindi dovremmo cercare di capire come fare. Per intanto io mi porto avanti e esploro un pochino. Lì ci sono delle prove, di prove ce ne sono quattro da distruggere, quindi dovremmo far tornare questo luogo in tonso, così come era prima, in modo da occultare per qualche motivo quello che i nostri datori di lavoro hanno combinato su quest'isola. Probabilmente il fatto che qui siano stati riportati in vita dei dinosauri, o vivano comunque dei dinosauri, è qualcosa che deve rimanere segreto e sicuramente qui è successo qualche problema. Abbiamo l'attivazione dell'ascensore, quindi abbiamo abbassato, qua abbiamo bisogno di una chiave elettronica, però l'attivazione del generatore ha abbassato questa scala, però prima vorrei andare abbassandomi, passandolo qui, andando a distruggere una prima prova. Ok, a questo punto i dinosauri non sono più un problema, non è stato facile, perché comunque ci avevo provato anche altre volte in altre partite, saltiamo di là e iniziamo ad esplorare tutto quello che c'è da pulire. Anche di qua, saltiamo, vedete che loro commentano continuamente quello che è il, quello che succede. Abbiamo un atto anche dentro lì, ma purtroppo qua abbiamo una serratura magnetica che non possiamo aprire, ne approfittiamo per pulire il sangue. Vedete in alto a sinistra la barra del sangue, quella scende man mano, poi noi puliamo. Qua non c'è nulla, lì c'è un altro dinosauro che ci sta osservando, però fortunatamente è potretto da sbarrare. Lì abbiamo un'altra scala da far abbassare e lì abbiamo una persona che sicuramente ci potrebbe dare fastidio. Ora abbiamo questo, che è un, vediamo, ah possiamo lanciarlo questo. Il problema è che non so dove lanciarlo, quindi io lo appoggerei qui e ci penserei dopo. Intanto noi, lui probabilmente ci ha visto e se ricorderete lanciando gli arti li possiamo, possiamo stordire queste persone o possiamo andare a eliminarle. Ora, lui ci ha visto, quando la barra si riempie di arancione ci ha visto ed è consapevole di noi, viene a prenderci. Quindi devo dare un'occhiata in giro e vedere se c'è qualcosa di, mannaggia, 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 c'è qualcosa di, ah ok lì possiamo buttare i cadaveri, perfetto. Punto di rilascio, ok. Abbiamo altri arti, abbiamo un cadavere, ok. Abbiamo delle prove che possiamo distruggere. In questo caso, o recuperare insomma. E qua in alto dovrebbe esserci anche dell'altro. Ok, noi intanto continuiamo e puliamo quello che possiamo pulire in modo da esplorare un po' l'ambiente. Sicuramente è un gioco che prenderà diverso tempo, sono quattro livelli abbastanza ampi perché c'è la mappa. E vedete che dobbiamo muoverci stealth, andare a ripulire tutte le varie zone, cercando di capire come sbarazzarci dei nostri avversari. L'aspira qua a pavimenti, la lava a pavimenti fa casino, quindi ovviamente dobbiamo fare attenzione a non farci beccare. Perché quando lo azioniamo, dice un save, salvo. Quando lo attiviamo facciamo casino e ci vedono, ci sentono. Adesso io mi carico il cadavere sulle spalle. A quel punto non siamo più stealth, però possiamo magari fuggire di là. Vediamo se non ci becca. Eh, lui si è un po' insospettito adesso. Eh, dobbiamo passare di là, mannaggia. Ok, sta andando di là, si è sospettito del fatto che non ci si più la macchia di sangue. Scendiamo e vediamo di eliminare il primo corpo qua. Vediamo se abbiamo modo di... Eh, sì, vedete che non possiamo portarlo dalle scale, quindi lo possiamo lanciare, gettare giù. Possiamo gettare anche il secondo. Vediamo se riusciamo a lanciargli in testa. No. Però lui è dubbioso. Anche l'arto qui. Possiamo lanciarlo di sotto. O possiamo lanciarlo dietro su di lui, in testa. Possiamo lanciargli, ma non mi interessa. Lo getto giù. Lui ovviamente, questo mi spiace un po', però non è sullo stile di Commandos, dove loro vengono a cercarci. Lui resta lì, insomma, non ne fa tante. E vediamo adesso se scendendo. Questa resta una zona comunque... Uh, c'è un dinosaurio anche lì. Non ne fa tante, nel senso che la sua zona è quella. E noi qui possiamo entrare invece liberamente, quindi prendiamo questo. Non possiamo portarlo di là. Possiamo trascinarlo, però, con F. Lo trascino. Lui mi ha visto. Mi ha visto, per modo di dire. Rimango nascosto. E anche il fatto che comunque gli spariscono i cadaveri da sotto il naso non potrà problemi. Adesso lo sta guardando sotto, però. Però non vede nessuno, quindi probabilmente tornerà alla sua routine. Però ha tolto il manganello, quindi probabilmente è insospettito. No, sta andando via. Adesso gettiamo il primo cadavere. E possiamo andare a trascinare il secondo. Cazzarone, ci vede, ci vede, ci vede. Si è insospettito, ho sentito del rumore. Tanto vedete che c'è in alto a destra la storia continua, continuano i dialoghi. Si alza il livello di sorveglianza dei tizi qui. Lui ci ha visto, però vediamo se può attraversare anche di qua. No, evidentemente no. Questo è un limite, secondo me. Però è un puzzle game. Come avevo già detto lo scorso video, è un puzzle game. Quindi non... Non c'è da, diciamo, giudicare questo perché è un puzzle game. Va risolto, ovviamente. Stealth. Possiamo anche fare una cosa di questo tipo, lanciandolo addosso a lui. Lui ci ha beccato adesso, però ripartiamo da qui. Possiamo lanciarli addosso l'arto. E quindi estordirlo. Vedete che me lo targetta. Non credo lucida. Però possiamo prendere questo e andare a buttarlo. Quindi man mano stiamo eliminando vari... Poi probabilmente io, per come piacciono i giochi a me, nel senso che mi piace una serie Hitman, una serie Commandos, Commandos, avrei apprezzato il fatto di magari poterli eliminare, poter studiare come comportarmi in modo più cattivo di come si fa qui. Però, ripeto, è un puzzle game, quindi alla fine ci si organizza così. Allora, abbiamo eliminato gran parte della cosa. Ma la cosa assurda è che io, ad esempio, qui faccio un gran casino, passo un aspirapopulisco sotto il naso del tizio lì e poi torno a nascondermi. Posso attivargli la radio in modo da far casino e in modo da non fargli sentire... Cioè, è studiato per poter essere completato in modo assolutamente magistrale, perché lui mi ha visto. Adesso però io... Eh no, mi ha visto, mi ha visto. Però mi ha tenuto conto delle cose che ho già eliminato. Quindi, come sangue siamo messi abbastanza bene, vedete quella lì sotto è la soglia minima che dobbiamo fare. Per poter completare quella parte lì. Quindi, la scala la possiamo abbassare, vedete, e quindi qua creiamo una shortcut. E qua saliamo ancora e abbiamo ancora delle cose da recuperare qui, perché qui c'era... Vabbè, i dinosauri ce ne sono anche lì. Non possiamo andare alle spalle e stordirle, a meno che non abbiamo qualche tool apposta. Vedete, adesso ci ha beccato. Inizia la fuga, ma in realtà ci ha già perso di vista. Possiamo andare di qua e vedere se troviamo magari quella chiave. La chiave probabilmente ce l'ha in mano qualcuno? No. Però qua sblocchiamo l'ascensore. Perfetto. E poi entrano in gioco anche gli altri, perché ognuno ha la sua peculiarità. Se non ve lo siete visto nel video precedente, ogni personaggio ha la sua peculiarità e le sue abilità. Perché non posso... Scusate. Ah, ok. Posso, premendo qui, lo tascino giù con il... Scendo di sotto. Ah, seleziono. Ok, porto giù il cadavere che sta facendo imbalzo contro il muro. Ok, adesso l'ascensore funziona, quindi mi apre già delle altre prospettive. Il cadavere qui però in effetti non ha molto senso, perché non ho un punto dove eliminarlo, credo. A meno che non ci sia qualche punto di eliminazione, però i cadavere andranno portati di sopra, credo. Perché non ho... Ah, a meno che... A meno che... Eh no, mi... Ah, lo impazziscono. Dovrei... O li posso eliminare... No, buttandoli in acqua, ma non credo, perché... Qua siamo arrivati, adesso lo mollo, vediamo se c'è qualche altro punto di... Però, ecco, abbiamo accorciato tutte le distanze abbassando il... Questo. Ovviamente poi ci saranno degli eventi dove, arrivati a un certo punto, o passato un certo tempo, si attivano delle... Una sorveglianza aggiuntiva, arriva qualcuno, colpo di scena, classico, che poi ci cambia tutto. Adesso io non so se avrei portato giù il cadavere, è stata una gran scelta, perché... Qua ne abbiamo un altro, ma in realtà da eliminare c'è tutt'altro. Qua abbiamo una scala... E vediamo un po' dove si va da qui... Ah, qua possiamo mettere questi graffiti, cioè queste... Adesso non lo so, aspettate che vedo. Posso fare con F. Posso metterne un tot... Ah, probabilmente è un elemento di distrazione. Comunque abbiamo fatto ormai la soglia minima del sangue. Quindi qua ci siamo. Qua abbiamo un salva, salviamo. E non ci resta che eliminare le altre cose prima di andarcene, credo. Però qua si può scendere... Ancora. E no, è veramente interessante come gioco, ovviamente per gli appassionati di questo genere, dove bisogna comunque far andare un po' la testa. E questo apri. Infatti anche qui... E abbiamo scoperto che qua c'è una prova da eliminare. E abbiamo scoperto che qua i dinosauri mangiano gli umani. Credo sia tutto qui. Però abbiamo questo... Questo coso qui che posso magari mollarlo qui. Chiudere la porta perché non mi piace molto quella zona lì. E vediamo adesso se riesco a tornare giù. Sì, non credo sia finito perché restano tre arti e quattro cadaveri da eliminare. Quindi di lavoro ce n'è ancora. Dinosauri non escludo che verso il finale, quando stiamo finendo, ne arrivino altri. Quindi sarà da vedere. C'è anche quell'arto lì che non so necessariamente come tirarlo giù. E qua posso invece tornare al luogo d'arrivo. Ma non c'ho modo ancora di andare via. Quindi dobbiamo ancora finire bene tutto. Abbiamo tutti i cadaveri da eliminare. E vedete questi cadaveri qua sotto? Io probabilmente devo portarli su. Perché dalle scale non posso tirarli su. Devo trovare una scorciatore ulteriore per portarli di sopra. Perché l'unico punto di eliminazione è quella ventola di quel silos lì, quello scarico. Quindi dovrò portarli su tutti con l'ascensore e buttarli giù. Quindi fargli fare il giro inverso, portarli in cima e poi trascinarli giù. Ragazzi, questo è il DLC di Serial Cleaners. Il DLC si chiama Dino Park. Costa 9,99, uscito il 9 di maggio. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Molto carino, simpatico, originale. Più che altro. Mantiene questa linea un po' scansonata di gameplay, questo titolo. Ringrazio ovviamente il produttore per avermi, lo sviluppatore, per avermi permesso di portarlo e farvelo conoscere. Spero il gioco comunque vi piaccia. Non è per tutti, è per gli amanti comunque dei giochi puzzle che non si prendono troppo sul serio. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate. E alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie a tutti.